Questa grande sera di live qui a Crisibur, ed è di matera live con un grande gruppo, un gruppo composto da te e proprio professori della musica, veterani, professori della musica, loro non solo ci saranno la musica stasera, ma ci saranno la loro passia, quella passia che usano tutti i loro passetti per fare divertire il pubblico. Quindi, signori e signori, stasera a Crisibur, ci sono gli off-time! Qualcuno gli ha definito i cinque elementari a Maria, io gli ha definito i cinque inquilini della fisica vista, e sono composti alla batteria, colui che fa un grande ammortello, il professore è il bambino, figlio! E' un certo! Al passo, dietro, c'è lui! Soluzga il suo passo mentre tutti le cinello, e con voi, il caso è l'unico, Giaccio Martello! E ce l'ho, dietro, in realtà, un grande ammere, il fenomeno, il fisico del gruppo, che non potesse andare bravo! E, signori e signori, quando lui suona, non chiede sempre una rossa, e con voi, vincendo, Eto Gilles, ragazza! Allora, è la stessa, e non solo la stessa, perché lui mi chiede sempre una voce, la bellezza, soprattutto la stessa ragazza, che non potesse andare a fare, Inizio, signori, signori, non chiede sempre una voce, non potesse andare a fare, ma non potesse andare a fare, che finirà la bellezza! anche se questo personaggio non sa cosa si limita questa roba perchè in questo venito sta scappendo un po' di canopassi anzi di distaccamento della mente infaggi infatti e noi che provociamo a buttare il barmano vado loro tenono giunto anche l'uomo ragno che il mio signore non lo facendo il tuo posto andate è un progno che ha un bambino è un progno non finirò mai è che c'è lui che stanno già attendo i non voglio sono venito ha detto il mio figlio ragazzucci Signore e signori ha presentato per voi il texano Spider-Man Nio Centino!